Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo terzo appuntamento con Beyond Two Souls. Questo gameplay sarà lungo perché voglio fare due capitoli. Buona visione! La tua stanza sarà tua per i prossimi tre anni. L'addestramento comincia alle 5, sì puntuale. Forza Olms, stacci dentro! Presa salda! Devi darti lo slancio per procedere! Rapida! Così, Olms! Avanti! Non ho tutto il giorno! No! No! al riparo miri e ancora al riparo chiaro avanti vieni fuori di lì brava eccellente molto bene recluta sparazzati di quei barili bene avanti così non Gliù in fretta e tieni giù quel culo grasso Continua Muoversi, recluta! Questa non è una cazzo di scampagnata! Questa non è una cazzo di scampagnata! Questa non è una cazzo di scampagnata! Non male! Questa non è una cazzo di scampagnata! 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 Sì. 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 Uno bello cane. Ciao cane. Sì. 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 Signorina, ritorni al suo posto, la prego. Merda! È lei! È lei! Fermati, polizia! Fermati! Ehi, attenzione! Fermati! Fermati! Tu sei matta! Presto, Eidl! Troppo infinitamente! Abb ... Luolu! Ah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, lo so. Dobbiamo andarcene prima che tornino. Andate dall'altra parte! Forza, cosa stiamo aspettando? Sbarbagliatevi! Andate! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Non abbiamo scelto. Dobbiamo andarli addosso. Sei pronto, Aiko? Andiamo. Aiko! Sì! Sto di blocco Tango. L'abbiamo mancata. Ripeto, l'abbiamo mancata. Va verso Baker Town. Avanti, forza! Gruppo tre, in posizione! Sei circondata, esci con le mani alzate e non ti faremo del male. Se stanno cercando i guai, noi li daremo. Pessaci tu, Biden. Pessaci tu, Biden. Pessaci tu, Biden. Muoversi! Ci serve subito una cazzo di ambulanza! Guarda! Ha un ciclo lei! Venga pure! Non mi avrà! Cazzo, dovremmo! Arrivati! Aiko! Tieni lontanio! La porta, Aiko! Non posso entrare! Apri la porta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bene ragazzi, dopo questo finale esplosivo vi saluto e vi aspetto ai prossimi gameplay. Ciao ciao a tutti da GeneticDNA. Grazie. Grazie.